Rimane fragile, cessato il fuoco in Libia, ma tiene in attesa la conferenza di Berlino di domenica, anche se la Turchia conferma che invierà altri soldati. Allora da Tripoli abbiamo Amedeo Ricucci, inviato del TG1. Buongiorno Amedeo, com'è la situazione sul terreno e tra la gente? A te. Buongiorno a voi, qui a Tripoli anche stanotte le armi hanno taciuto, almeno quelle pesanti, ed è la quinta notte, quindi una buona notizia che va ad aggiungersi a quella di ieri del ministro degli esteri tedesco Maas, che ha incontrato a Bengasi l'uomo forte della Cirenaica, uno dei, quello più recalcitrante diciamo fra i due belligeranti, il quale ha dichiarato di voler rispettare il cessato il fuoco, nonostante non abbia firmato la tregua proposta dal presidente russo Vladimir Putin. Quindi gli occhi di tutti qui da Tripoli sono puntati su Berlino, sulla conferenza di domenica, dove l'Unione Europea, quando l'Unione Europea tra azione tedesca, proverà a varare una nuova roadmap verso la pace, un processo che porti innanzitutto allo smantellamento delle milizie, che provi a far rispettare l'embargo sulle armi e che arrivi a formare un nuovo governo di unità nazionale. In realtà a Berlino proveranno a dialogare gli sponsor internazionali di questa che ormai è diventata una guerra per procura e che insanguina le strade della capitale ormai dal 4 aprile dello scorso anno. Dall'altro c'è lo schieramento che sostiene il premier riconosciuto Fayez al-Serrage che vede in prima fila Turchia e Qatar, dall'altra invece a sostenere il maresciallo Haftar sono Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Russia. Quindi a Berlino si proverà a farli dialogare, mentre il dialogo fra le parti libiche è rimandato al 27 gennaio, quando partirà a Ginevra una nuova conferenza di pace sotto l'Egital delle Nazioni Unite. Grazie.